allora in questo corso che come vedete si chiama genitori connessi generazione internet della rivoluzione digitale cerchiamo di abbiamo cercato di costruire e qui diamo un breve sunto un academy per far in modo che i genitori di reggio ma possa essere questi video potranno andare anche oltre la città e quindi sul web per far diventare consapevoli i genitori che il mondo dei loro figli ma lo sanno anche loro è molto aumentato dalla tecnologia e che i loro figli hanno un'identità digitale che spesso è sconosciuta ai genitori stessi l'idea è che i nuovi bambini i nativi digitali come li ho chiamati in un libro di qualche anno fa sono diversi da noi e sono diversi da noi perché sono nati in un mondo che è completamente intriso di tecnologie cosa vuol dire questo vuol dire se guardiamo i dati sono abbastanza interessanti e anche e anche come dire sorprendenti è che la connessione a internet dei bambini di sei anni per esempio in europa è del 42 per cento e quelli di sette anni sono il 52 per cento e sono dati rilevati dal 2012 del 2014 quindi sono dati che sono ancora saranno più alti relativamente al 2015 al 2016 ma allo stesso modo vediamo come in realtà sono dati ricavati da una rivista da una rivista da una ricerca internazionale della london school economics che coinvolge tutti i 27 paesi dell'unione europea allargata e che rappresenta in qualche modo lo standard il default della stato dell'arte della ricerca su questi temi vediamo come i bambini tra i tre e quattro anni siano per esempio connessi in danimarca finlandia nei paesi bassi al 70 per cento siano connessi in uso in giappone in corea in svezia l'ottanta per cento e nel regno unito all 87 per cento dei 5 7 anni come vedete è una generazione di nativi digitali e questo vuol dire tante cose vuol dire che dobbiamo preoccuparci del fatto che per loro il digitale qualcosa di intrinsecamente correlato alla propria identità e che imparano il digitale da noi perché noi abbiamo strumenti digitali nelle nostre tasche che loro vedono anche quando i bambini vengono per esempio che ne so allattati questo fenomeno è talmente rilevante che uno dei più grandi studiosi di di psicopedagogia our gardener l'inventore del termine dell'intelligenza multiple ha dedicato un libro a questa nuova generazione di bambini cosiddetta generazione app perché generazione app perché gardener ha usato questo 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 neologismo perché negli ultimi sei anni dall'epo store sono state scaricate più cento cento più di cento miliardi di applicazioni perché le applicazioni disponibili erano un milione e mezzo alla vendita nel 2015 e perché banalmente ci sono 80 mila applicazioni sono nel gennaio 2015 che hanno l'aggettivo educativo attaccato quindi è un fenomeno sempre più rilevante in realtà non riguarda solo le app ma più in generale riguarda il fatto che i bambini tra 6 e 9 anni sono compiutamente nativi digitali perché frequentano il digitale soprattutto per giocare ma in maniera molto molto massiccia se guardiamo questi dati vediamo come genitori e bambini hanno preferenze diverse i bambini giocano nei mondi virtuali come minecraft come clash of clans o giochi cloud online disponibili per cellulare per tablet ma anche per console e poi i loro genitori li mettono su facebook perché dubito che questi account di facebook per esempio il 56 per cento dei bambini tra i 6 e 9 anni in inghilterra siano stati fatti dei bambini stessi sono i genitori che vogliono mostrarli online e quindi gli fanno un account su facebook per mostrare che ne so sono bravi bravi a basket bravi a danza nelle loro attività o semplicemente per rappresentare permettere ai nonni di vederli dall'altra carta dall'altro capo dell'italia o del loro paese o del mondo se sono se sono emigrati quindi come vedete siamo noi in primo luogo noi genitori a introdurre i bambini al digitale peraltro poi la tecnologia si sviluppa talmente rapidamente che i bambini imparano così velocemente anche perché la tecnologia è stata è cambiata negli ultimi 56 anni cioè si è passati da una fruizione attraverso tastiere mouse e quindi strumenti che in qualche modo hanno qualche difficoltà ad essere usati dei bambini infatti come vedremo più avanti fino a sette otto anni fa si ipotizzava un primo accesso alle tecnologie intorno ai tre anni perché c'è un problema di coordinazione oculo manuale tra tastiera mouse e schermo e oggi i bambini accedono alla tecnologia molto prima sono connessi con le mani nel senso che toccano direttamente lo schermo e navigano in quell'applicazione in quel in quel contenuto in quella particolare sito solo attraverso il tocco di un dito sullo schermo ora questa così veloce diffusione degli schermi touch qui vediamo alcuni dati che non sto non sto commentarvi non potete voi stessi vedere anche perché sono dati del tutto parziali perché sono stati rilevati nel 2012 2013 oggi siamo nel 2016 non ci sono rilevazioni più recenti ma sicuramente sono molto più alti però già nel 50 per cento dei bambini svedesi tra 3 4 anni utilizzava tablet e smartphone nel 2013 quindi come vedete questo dato andrà a saturazione rapidamente beh questo fa sì che si siano cominciate a diffondere una serie di studi su questo fenomeno e per uscire dalla tradizionale come dire ipocrisia del tecno entusiasmo del tecno scetticismo cioè del fatto che internet fa malissimo fa benissimo ci sono studi interessanti come questo che vi presento della dell'accademia delle scienze francesi che affronta il problema da un punto di vista interdisciplinare i francesi quando si mettono sono napoleonici diciamo nel loro modo di agire quindi hanno preso esperti di neurobiologia di neurofisiologia di psicologia di sociologia di scienze dell'educazione di moltissime discipline tutte quelle coinvolte nel fenomeno ea e hanno raccolto i loro studi hanno costruito questo testo che si chiama non fan e le cran cioè i bambini gli schermi che analizza il modo in cui è sensato che i bambini vengano in contatto con la tecnologia sorprendentemente per molti di voi non per me perché di questo questo fenomeno lo studio da tanto tempo viene fuori che l'accademia delle scienze francesi contro ogni tecno scetticismo ma anche contro ogni tecno entusiasmo dice che insomma il tablet e lo smartphone sono gli strumenti più efficaci per introdurre alla logica dei digitali bambini piccoli perché in quel periodo toccano tutto e quindi gli viene facile toccare gli schermi per questo anche l'età di accesso a internet si è abbassata molto e che peraltro ad esempio un uso equilibrato dei videogiochi che sono quello che i bambini amano di più delle tecnologie digitali sviluppa l'attenzione selettiva la capacità di svolgere compiti complessi pensate come complesso per esempio quante variabili devono essere tenute sotto controllo per esempio giocando super mario si deve cercare di evitare gli ostacoli che ti fanno perdere vita ma si deve cercare di trovare le chiavi per passare al livello successivo del gioco si deve acquisire una mela per avere forza si deve entrare in una nuvoletta per poter volare e addirittura questi studiosi hanno messo in chiaro come in realtà molto spesso i videogiochi ma comunque il lavoro con gli schermi interattivi sia per gioco che per scuola appunto può sviluppare di più il pensiero intuitivo e il ragionamento ipotetico deduttivo cioè la dinamica osservazione ipotesi manipolazione del reale e nuova osservazione che peraltro come vedremo è una dinamica propria anche della scienza e qui si comincia a capire perché le tecnologie al di là di essere strumenti di svago possono diventare strumenti di apprendimento perché sviluppano una modalità di ragionamento è una modalità di risolvere problemi che è molto vicina all'atteggiamento scientifico verso il mondo si procede per prove d'errore ad esempio il super mario si cercano all'interno di un ambiente che non si conosce di conoscerlo e si cercano strumenti si cerca di risolvere problemi non si apprende in maniera nozionistica ma si apprende attraverso il fare come sostenevano anticamente montessori da quale punto di vista se guardiamo il punto di vista dell'età quindi non bisogna aver paura di far usare internet ai propri figli nelle prime età anzi nelle prime età noi li esponiamo questi strumenti involontariamente nel senso che molte mamme probabilmente allatteranno telefonando al cellulare o faranno la spesa del computer mentre si occupano del loro figlio allo stesso modo faranno i padri quando non lo allattano ovviamente ma quando magari si occupano del bambino e certamente risponderanno il cellulare oppure magari lavoreranno quindi siamo noi stessi che presentiamo il digitale per la prima volta ai nostri figli e quindi loro ci osservano ci osservano con grande attenzione con grande competenze quindi reputano che il digitale sia importante perché ce l'hanno in mano i loro i loro i loro genitori e quindi questa prima fase in qualche modo del processo di apprendimento è quella della familiarizzazione ed è quella all'interno della quale forse anche noi dobbiamo imparare a risignificare questi strumenti in maniera più legata all'apprendimento che fa di vedere che non c'è solo gioco certo il gioco divertente dobbiamo giocare con loro ma c'è anche altre cose esplorazione scoperta opere d'arte come vedremo e quant'altro esperimenti scientifici video interessanti non solo ironici o ludici e quindi diciamo le prime età sono quelle della esplorazione della prima educazione digitale che è molto importante che noi pratichiamo rispetto ai nostri figli senza troppe paure poi ovviamente l'età delle elementari quindi quella del 6 12 anni dei 5 e 10 anni è il luogo proprio della sistematica esplorazione degli schermi interattivi e digitali è il momento in cui insegnare ai bambini le potenzialità di questi strumenti e le potenzialità anche legate all'apprendimento di questi strumenti da questo punto di vista la scuola italiana è come dire indietro anche se un recente intervento legislativo legato la legge 107 alla buona scuola ci permette di come dire essere un po più speranzosi rispetto al futuro nel passato la legge 107 come sapete investe 4 miliardi sulla scuola fino ad ora fino a questa legge ci sono stati solo tagli negli ultimi 15 anni 9 miliardi di tagli ma di questi 4 miliardi un miliardo sono dedicati specificatamente al piano al piano nazionale scuola digitale che è un piano che si propone di abilitare le scuole italiane con strumenti digitali nell'arco degli anni che vanno dal 2016 al 2020 quindi qualcosa è cambiato e dobbiamo essere fiduciosi nella possibilità che i nostri figli usufruiscono di questi strumenti anche a scuola in maniera corretta però resta che a casa in qualche modo noi dobbiamo fare il nostro lavoro di genitori e quindi introdurre elementi di autoregolazione anche nei bambini cioè tempi modi riflessioni sul modo di utilizzarli sul modo di gestirli certamente non è un modo sensato lasciarli da soli col tablet e noi stare a lavorare dall'altra parte quando sono piccoli certamente è molto più importante navigare con loro e essere presenti a loro perché loro saranno compiutamente cittadini digitali saranno sempre cittadini digitali noi lo siamo stati forse per metà della nostra vita io 50 anni e lo stiamo diventando compiutamente adesso loro lo sono già e devono essere consapevoli delle potenzialità dei rischi e delle criticità ma anche delle grandissime opportunità che sono legati alla ad internet e alle sue potenzialità ora è chiaro che una cosa che per esempio notava sherry charcoal in maniera molto evidente è che esistono anche qui l'abbiamo visto più o meno varie fasi di approcciarsi alla tecnologia l'aspetto interessante che sherry charcoal ha fatto un primo ragionamento su queste tematiche nei primi anni nei primi anni 2000 e nei primi anni 2000 ipotizzava che la fase esplorativa fosse 3 3 7 8 anni che la fase come dire delle abilità quindi della scoperta sistematica del mezzo fosse dai 7 8 anni fino ai 13 14 e poi che è la fase invece dell'identità fosse legata al momento dell'adolescenza vent'anni dopo dovendo rifare lo stesso ragionamento ci troviamo con una situazione ribaltata cioè abbiamo scoperto che la fase esplorativa è tra gli uno e i quattro anni e mezzo che la frase dell'uso sistematico si è spostata tra i cinque e i dieci e che la fase della identità cioè della appropriarsi anche in maniera completa e più più a tutto tondo dei media digitali compresi social network comprese l'esprimersi all'interno del mondo digitale in maniera creativa e personale è diventato qualcosa che caratterizzano non più gli adolescenti o i teenager ma addirittura i preadolescenti bambini 12 13 anni queste sono tutte cose che dobbiamo imparare cioè noi dobbiamo imparare a considerare l'identità dei nostri figli con una parte integrante della nostra identità imparare a conoscere i nostri figli quando è a sapere cosa fanno i nostri figli sullo schermo perché costituisce almeno un terzo l'attività sugli schermi del tempo dei nostri figli e noi dobbiamo sapere cosa succede perché succede per aiutarli per dialogare con loro per far diventare la tecnologia una parte del lessico familiare e per svolgere anche in questo campo cioè nel campo del digitale compiutamente il nostro ruolo di genitori consapevoli e di educatori